Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti un saluto alla community più gasata del web soprattutto oggi soprattutto in questi giorni che bitcoin ci sta facendo godere veramente un sacco era ora non aspettavamo altro insomma da da un bel po di rompere questa strabenedetta fase laterale e magari se proprio ce la facevamo insomma romperla rialzo non sarebbe stato male Fortunatamente il nostro caro bitcoin stavolta ci ha accontentato o almeno così sembra perché sono abituato ormai a non cantare vittoria almeno per qualche giorno da quando iniziano a succedere le cose ma insomma diciamo che la configurazione è molto bella abbiamo volumi abbiamo una spinta verso l'alto abbiamo la rottura di tutte le resistenze abbiamo un higher high e perlomeno abbiamo domanda in conferma anche oggi per adesso Ok e niente quindi che dire oggi siamo qui come al solito per commentare quello che succede quello che accade quello che ci dicono i grafici come muoverci in questo maledetto mercato che ci fa sempre impazzire ci fa sperare ci fa dannare di volta in volta e bisogna prenderlo ovviamente con razionalità E lo scopo della nostra community è sempre quello di allontanare le emozioni in qualsiasi momento soprattutto quando si tratta di euforia paura avidità insomma quelle emozioni che rischiano di farci perdere il focus Questo è un momento di quelli ok siamo in un momento di euforia e l'euforia è estremamente pericolosa così come appunto le altre emozioni Quindi siamo sul pezzo siamo qua esamineremo i nostri scenari i livelli di prezzo importanti quali seguire come comportarsi o meglio quello che avrò intenzione di fare io e perché no Ditemi anche voi quello che volete fare voi così ci scambiamo un po' di opinioni buttiamo un occhio come sempre anche sulle altcoins perché anche qua insomma ci sono un po' di qui pro quo di misunderstandings Insomma ci sono si tende a dare per scontate cose che scontate non lo sono del tipo adesso bitcoin parte le altcoin dampano poi sicuramente lui si ferma e le altcoin ripartiranno Ecco io vi consiglio di evitare queste sorte di luoghi comuni che non so da dove nascono perché magari è vero è successo in passato questo ma non vuol dire assolutamente nulla Ecco uno degli errori più grossi è modellare il futuro in base al passato questo è uno dei mantra che cerco di inculcarvi ogni volta bisogna sempre ragionare con la situazione che ci troviamo davanti Quindi oggi cercheremo di fare un po' anche questo un occhio sull'altcoin dominance un occhio sulle principali altcoins interessanti come sono le loro strutture di mercato Vi aggiorno sulle mie posizioni su DS stamattina ne ho chiusa una del tutto quella su cava come vi ho già anticipato su telegram praticamente in maniera real time come al solito E poi vi accenno l'angolo shilling c'è sempre no in realtà vi accenno un nuovo progetto che voglio seguire molto da vicino di cui vi ho già parlato anche su telegram E ci sarà un nuovo token suo e si chiama Serum Project sempre inerente al mondo DeFi ed è creato dal team di FTX per quello io lo seguo da vicino Perché quello che fanno loro a me piace molto lo sapete perché da quant'è che vi scillo FTT che lo sapete io faccio il piano di una delle poche altcoin in cui investo per davvero E adesso il team di FTX sta creando questo ecosistema DeFi sulla blockchain Solana che non è Ethereum è una competitor un po' più scalabile diciamo così E ve lo accenno poi se vi interesserà ci farò un video dedicato in futuro qualcuno di voi me l'ha già scritto in privato mi fa ma ce lo farà il video su Serum E io vi dico assolutamente sì perché a me interessa veramente tanto come progetto io personalmente lo seguirò Poi se vi interesserà anche a voi condividerò chiaramente il mio pensiero con voi stessi Intanto oggi ve lo introduco così per stuzzicarvi un po' la curiosità Inizio col dirvi grazie di cuore davvero per esservi guardati il mio quella specie di vlog Non so nemmeno come chiamarlo che ho fatto giovedì scorso quando sono andato a trovare gli amici di Conio che saluto E è stata veramente una figata quella giornata mi sono divertito un sacco ho conosciuto un sacco di persone Entusiaste cariche veramente grintose Cioè l'aria di startup no non so se avete siete mai stati a lavorare o a visitare una startup si respira veramente un'aria diversa Rispetto alle classiche aziende dove ognuno ha quelle le sue cose da fare le fa arrivare a fine giornata L'elenco di compitini lì invece è più una sorta di brainstorming più un voler fare portare idee Insomma è un'aria veramente diversa e consiglio a tutti quelli che hanno l'opportunità di farlo almeno una volta nella vita Di lavorare o visitare una startup perché è anche non so come dire un'esperienza insomma Ti fa capire che c'è anche altro Qualcuno odia le startup dice che sono degli sfruttatori eccetera eccetera ma io in realtà ho un pensiero molto opposto Insomma è un'esperienza da provare Detto questo vi ringrazio per aver sopportato il mio video molto amatoriale me ne rendo conto Riguardandolo ho detto ma davvero ho pubblicato un video del genere però vi è piaciuto insomma il nostro spirito è un po' questo Io non sono né un videomaker né uno youtuber né non so nemmeno come definirmi a me piacciono le cripto mi piacciono i grafici Sono un po' nerd e mi sono messo dentro questa cosa qui ho detto ma si proviamo anche a fare un vlog ed è venuto quello che è venuto Però vi è piaciuta anche la canzone ha sentito la bitcoin billionaire per chi se lo stesse chiedendo di Remy È una canzone copyright free fortunatamente però ho potuta mettere per quello e la trovate su youtube tra l'altro c'è anche un video che fa morire da ridere Io vi consiglio di guardarla fa veramente morire e niente iniziamo Voglio adesso leggere un po' delle vostre domande a per chiudere la parentesi conio Non è quello che ho pubblicato ovviamente non è tutta la l'intervista a christian che è veramente uno dei numeri uno A parte che è una delle persone più bullish che abbia mai visto a un certo punto quando ha fatto alcune dichiarazioni Perché ad esempio ha dichiarato che nei prossimi anni ci sarà uno dei più grandi trasferimenti di ricchezza Dalle persone che sono rimaste fuori dal mondo delle cripto a quelle che invece ne hanno capito il potenziale Io quando l'ha detto ero tipo così Ho detto ma lo sta dicendo davvero? Parole forti insomma non arrivano dall'ultimo pirla come potrei essere io o qualche altro youtuber americano Noto oscillatore insomma arrivano da una persona che ha raggiunto i vertici nel mondo finanziario bancario Quindi direi che di tutto rispetto Chiudendo questa parentesi per l'appunto adesso mi raccomando bombardatemi di domande Fate domande siate sul pezzo siate partecipi perché al di là delle shitcoin ovviamente che si vincono E a tal proposito andrò ad abbassare la soglia per ricevere il premio perché altrimenti non ve lo do più Erano mille shitcoin ma mi sa che è lungo arrivarci quindi la abbassiamo un po' E voi continuate ad accumularle mi raccomando non buttatele facendo le scommesse i giochi di carte Il pick a card coi robili ma continuate ad accumulare da bravi bag holders Perché queste saranno le bags migliori della vostra vita perché vi verranno convertite in BTC Dunque cosa vi volevo dire? Niente siamo siamo pronti a leggere le vostre domande Il secondo modo appunto per accumulare shitcoin è fare domande quindi fatele 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 senza spammare Cominciamo dall'alto e poi come al solito dopo una piccola tranche di domande piccola neanche tanto Vado a commentare i grafici quindi analizziamo Bitcoin analizziamo le altcoins Oggi magari dedico un po' più tempo ai grafici per ovvi motivi E poi andiamo a ririspondere ad altre vostre domande alla fine Inerenti magari di più il mercato Prima di iniziare ancora vi butto lì in maniera volante che domani alle ore 21.00 Segnatevi questo orario e questo giorno Perché per la prima volta intanto farò un live sempre qui su Twitch alle 21 Domani domani alle 21 mi raccomando E ci sarà niente po' po' di meno che Pietro Michelangeli come ospite Che è uno dei numeri uno forse il numero uno mi permetto di dire In Italia nel campo della finanza personale Quindi lui che recentemente ha approcciato Bitcoin è un value investor Quindi ci contrapponiamo un po' no? Perché io parlo spesso di speculazione Lui invece parla di value investing proprio Quindi è la costruzione di un portafoglio L'investimento basato appunto sul valore intrinseco E recentemente si è appoggiato a Bitcoin Si è avvicinato meglio a Bitcoin E quindi ci faremo una chiacchierata in live domani alle 21.00 qua su Twitch Che poi riposterò sul tubo E voi siete super benvenuti mi raccomando Con tante 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 domande Quindi siateci che lo facciamo anche alle 21.00 Che è un orario che so che vi piace tantissimo Allora iniziamo subito con le domande che avete Buonasera a tutti, buonasera Oggi carichi a molla? Beh oserei dire porca miseria se non siamo carichi oggi Quando è che lo dobbiamo essere? Non riesco neanche a stare fermo Prima live per me Benvenuto barra A Non so se sei uomo o donna Anche se le statistiche solitamente sono a favore dell'uomo Ma il tuo nickname mi fa pensare diversamente In ogni caso mi fa piacere che ci siano nuove persone Insomma le Burran portano sempre nuove persone Ciao Luca seconda live Bravo Filo Ben ritrovato E mi fa piacere riaverti qua Sei un grande a scoperto Bitcoin millionaire nel tuo video Billionaire non millionaire Insomma adesso non sminuiamo le cose Nuova suoneria si fa morire da ridere quella canzone Buonasera Eccomi grandissimi ben ritrovati a tutti Bella ciao ragazzi buonasera Quanto mi siete mancati? E in effetti da quant'è che non ci vediamo? Da martedì? Martedì? Eh caspita No scusate da venerdì Oggi è martedì Sono completamente fuori dal tè Dallo spazio tempo Centesima live sempre qui A spendere altre shitcoin No tienite le strette le shitcoin Bellissimo il video che hai fatto su Coinio Grazie mi fa molto piacere Grande Ciao info sullo staking di Cardano Dopo Shelly Guarda io non seguo tanto Cardano Però se qualcuno qua negli amici Ti può rispondere è benvenuto Altrimenti mi informerò io E ti risponderò in futuro Ciao a tutti Dov'è il verde? Quale verde? È tutto verde qua Oggi no Tranne la mia maglietta Anzi no non è vero Guarda c'è un broccolo Che più verde di un broccolo Non c'è niente Quindi direi che oggi voglio Voglio l'analisi tecnica della maglietta Mi raccomando Io farei anche tre live Così stiamo sempre sul pezzo Sì più che altro Poi non ho più una vita È quello il problema Allora qua c'è il nostro vice in holder Che è pronto a scillare Secondo me un'altra altcoin Perché è qui che ci chiede La scillo o non la scillo Che domande fai? Cioè la sai già la risposta Vuoi che faccia il sondaggio Per chiederti Per chiedere se scillarla o no? Scilla Scilla ai massimi Ti seguo dal treno Speriamo non mi vada via la connessione No dai speriamo di no Ma poi magari durante le gallerie Fai un po' di Di sì e no Sì e no Però puoi recuperare tutto su youtube Perché alla fine metto la differita Lo sapete Opinioni sull'hard fork di Cardano Fra stasera e domani? Eh opinioni guarda Non ne sapevo niente Per farti sapere Per farti capire Quanto sono fuori dal mondo Su Cardano Anche perché Dopo che ho mancato Il mio fantastico entry Tempo addietro Ho detto Ma sì Vattene Ciao Non voglio più saperne niente Di Cardano Scherzi a parte Le altcoins Ultimamente Sto cercando adesso Di ridurre un po' La mia esposizione Anzi L'ho ridotta Sono soddisfatto adesso Sono esposto soltanto Su BNB E su Ether Basta Cava l'ho chiusa Perché era una di quelle Di cui volevo liberarmi In questi giorni E basta Di altre altcoins Non ne ho al momento In programma Perché insomma Se c'è Bitcoin Che si inizia a muovere Come si deve Credo che mi concentrerò Magari sull'aprire Una posizione speculativa Su Bitcoin stesso Che cos'è un hard fork? Eh non sei mai stato Nel 2017 No Un hard fork Praticamente Quando una blockchain Si divide in due Quindi inizia Cioè abbiamo la nostra Blockchain attuale E si divide in due Perché? Perché a qualcuno Propone un aggiornamento Supponiamo E quindi continua a esistere La blockchain tradizionale E quella aggiornata Diventa Si chiama un fork Quindi una sorta Di biforcazione Immaginati una strada Che si divide in due Da una parte Hai la blockchain Con le stesse regole Di prima Diciamo E dall'altra parte Hai la stessa blockchain Con qualche modifica E quello che è successo Per capirci Vabbè A Bitcoin Con Bitcoin Cash Bitcoin Diamond Bitcoin Gold Bitcoin Cash ABC SW Tutte quelle inutilità Lì Poi c'è stato con Ethereum Quando c'era Ethereum Ethereum Classic Lì non c'ero ancora Nemmeno io Era mi pare Il 2016 E insomma Tante Tante Blockchain Hanno forcato Nel tempo Proprio per Aggiornarsi Per Dare Proporre consenso Che chi voleva Poteva appoggiare L'aggiornamento E chi voleva La chain Classica Invece Questa è un po' La logica Della blockchain Ciao Luca Eccomi anche Senza notifica Twitch Beh l'ho mandato Anche su Telegram Quindi vi voglio Tutti sul pezzo Quindi vi raduno Sempre tutti Buonasera Gasatissimi Belli carichi Per la tua solita Analisi Delle altcoins Non ti chiedo Stavolta Di guardare Swipe Prossima volta Perché è dampato Swipe Non mi stupirebbe Visto che Ha fatto Un pump Disumano E quando Bitcoin Ha pompato Ieri Ho visto Delle altcoins Fare delle performance Che da rabbrividire Da rabbrividire Tra cui Cava Non è esclusa Cava Luke ma MTA E MTA Spinge Ho visto che Spinge Abbastanza Perché Su FTX Che c'è Cava Sì Cava Ciao MTA Scusa Lo spot Il prezzo spot È arrivato A 5 dollari Con dei top Di 6 Anche È da 3 giorni Che l'hanno listata Ma insomma Sta spingendo Abbastanza Adesso non so Su mese L'asta A quanto Aveva terminato Perché mi ricordo Che Se non erro All'incirca Il prezzo medio A cui è uscito Era sui 2 dollari Una roba del genere Forse qualcosina in più Però diciamo Che sta spingendo Io Sapete Qual è la mia politica A parte che Al momento Dalle altcoin DeFi Come investimento Ci sto bene alla larga Come investimento Ripeto Come speculazione Vabbè È un grafico Che ha 3 giorni di vita Quindi non Cioè Si può solo Tirare a indovinare Quindi Credo che io Mi asterrò E rimarrò a vedere Dunque Ciao a tutti Buonasera Ciao Luca Prima live Sei un grande Sono molto appassionato Al mondo cripto Con quali primi passi Potrei iniziare? Allora Innanzitutto Benvenuto Mi fa piacere Che tu sia un appassionato Del mondo cripto Spero che il numero Di noi appassionati Crescerà sempre di più Benvenuto Sulla nostra community Spero che ti troverai bene E con quali passi iniziare? Beh Ti direi che innanzitutto Cerca di capire Di che cosa si tratta Se sei appassionato Se sei appassionato Magari lo sai già Però cerca di capire Cosa significa bitcoin Cosa significa blockchain Magari se hai voglia Leggiti quei libri Base Diciamo per capirlo Tipo Mastering bitcoin Mastering ethereum Sono due ottimi libri E datti anche un occhiato Un ascolto ai discorsi Di Andrea Santonopulo Se è un altro consiglio Che tendo a dare A tutti quanti Stanno scoprire Coloro che stanno scoprendo Il mondo delle cripto Perché Lui è una persona Molto brava A comunicare Molto brava A spiegare i concetti E in inglese Questo è l'unico limite Però se uno mastica L'inglese Non può Non guardare i suoi video Perché Trasmettono entusiasmo E soprattutto Della conoscenza Perché non è che Parla di astrazioni Ma parla di Qualcosa di concreto Usi concreti E insomma Che cosa davvero Porta come vantaggio Per quanto riguarda Invece il lato trading Ti direi Beh ovviamente Mi autoscillo Il mio canale Soprattutto il corso Trading consapevole Che ha totalmente Gratuito sul mio canale YouTube E poi magari Segui le nostre community Entra nel gruppo Discord Sentiti libero Di fare domande Di fare due chiacchiere Con i nostri amici Insomma C'è un ambiente Molto molto inclusivo In cui siamo tutti benvenuti Dal più schillato Al più nabbo Ok Perché tutti abbiamo Da imparare E quindi Non c'è nessun tipo Di discriminazione Quindi siamo tutti benvenuti Ecco Quindi questo potrebbe essere Un inizio Tutti non holder di Ripple Guai C'è qualche holder di Ripple Qua si faccia avanti Subito Basta la bolla DeFi È pronta a fare boom E ultimamente Vabbè Le altcoins in generale Che erano abbastanza In bolla Hanno avuto Un inciampone notevole Però Quelle DeFi In realtà Stanno continuando A spingere E la cosa Non so se mi dovrebbe Preoccupare Oppure no Solana è una sola Sono curioso di vedere Cosa succede Con questo progetto Serum Guarda Dimmi di più Di Solana Perché io Non la conosco Molto bene Però Sam Di DFTX L'ha scillata Un sacco Infatti mi sono appuntato Adesso varie cose Da leggere Per introdurmi un po' A questo nuovo progetto Prima di capire Che cos'è il progetto Capire che cos'è Solana Che vantaggi dà Rispetto a Ether A parte la velocità Perché finora ho capito Che è una blockchain Che interopera Con altre blockchain In primis con Ethereum E Bitcoin Ho visto che c'è Una sorta di Tokenizzazione Di Bitcoin E di Ether Sulla blockchain Di Solana Se non ho capito male Addirittura con le ERC20 C'è una compatibilità Una sorta di compatibilità Quindi gli ERC20 Sono in qualche modo Supportati Adesso Non so niente Quindi sto solo Dicendo per sentire Ho capito dire E inoltre Ci sono un centinaio Di nodi validatori Se non ho capito male Quindi Non è molto decentralizzata Forse è un appunto Che si può fare Non lo so Devo studiarmela Ve l'ho detto Quindi se vuoi dirci Dirmi anche qualcosa di più È molto benvenuto Dunque dunque Ciao Dici che ci sarà ancora Un po' di Deep Il weekly potrebbe Riportarci in bearish Allora Io in realtà Ho identificato Adesso lì sul grafico Le vedi già E se mi hai letto Su Telegram Lo saprai già Ho identificato Due possibili ingressi Già A cui devo ancora pensare Se buttare Già un ordine Oppure no Però Su questa struttura Che è appena nata Con l'IR high Appunto sopra il range Sopra i massimi Si sono già identificate Due Anzi Un po' di più di due Configurazioni per un long Ne parliamo tra poco Però Volendo Potrebbe essere Un primo entry speculativo Per il discorso Del deep È tutto da vedere Perché c'è da vedere Quanto rimaniamo Qua sopra Se ci rimaniamo E soprattutto Come si muove In questi giorni Il mercato Oggi mi sta piacendo Perché c'è stato Un riattacco Diciamo Quasi Ai 10.500 E5 Che è il primo supporto Sottostante E subito la domanda Martellato E l'ha riportato su Quindi diciamo che È abbastanza Carico Ecco Solana ha fallito Il primo lancio È praticamente Centralizzata Siccome segue Erron dagli inizi Era praticamente Una delle prime Competitor Sempre col discorso Sharding Ma in generale Hanno operato male 100 nodi oggi Erd 1800 Non c'è storia Ma ci sarebbe Da scrivere molto Eh Chissà perché Non hanno usato Erron Ci sono alti requisiti Per i nodi Con computer Performanti Ecco Ci sarà un po' Sì è un po' Centralizzata Forse Ci sono pochi nodi Grazie per Intanto per questi Insights La approfondirò E vi saprò dire Insomma Perché Io ho un po' Questo bias Bullish Nei confronti Di tutto ciò Che viene toccato Dalla Alameda Research Sono Come sapete Sono Non lo so Investo nel Nel loro prodotto Da tempo Quindi mi piacciono Come team E so che si muovono In maniera ponderata Cioè quello che hanno fatto Su FTX In poco più di un anno È sbalorditivo Secondo me Quindi sono di parte Lo ammetto Però approfondire Allora 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 Sondaggio 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 su cosa Mi sono perso qualcosa Sulla bolla Sulla bolla della DeFi Ciao tutti in ritardo Terza live in palestra Grande ormai è Un appuntamento fisso Io come al solito Ci vado dopo Dopo la live palestra Lavoro Live palestra Via Vita Non so neanche cos'è Ormai appuntamento fisso Grande Grande Oggi ti scillo Un progetto che devi assolutamente seguire E farci un video Acala Dot Network Ovviamente su Polkadot Ecco a proposito Visto che anche in tanti Mi state chiedendo Quando arriva il video Su Polkadot Conto di prepararlo Di terminarlo Per la prossima settimana Se riesco Non garantisco niente Però ci terrei a farlo Quindi mi raccomando Conosci Divi Masternode Stake Con ottime rendite Allora La parola Masternode A me fa venire un po' di brividi Perché mi ricorda Un po' Dei semi ponzi Di qualche anno fa Non lo conosco Comunque Scaricata Stupenda Mitico Arrivano i money Eh sì Adesso arrivano Le banche Si stanno interessando Alle cripto E insomma Spingeranno Buonasera Io scrivo Seguo spesso Ma scrivo poco Perché spesso Ti ascolto in macchina E rischio incidenti No eh Mi raccomando Attenzione Non scrivere mentre guidi Non vorrei rischiare Di essere in una Delle ambulanze di sottofondo Volevo chiederti Allo stop loss Di BTC 8400 euro Lo alzo un pochino Grazie Ma guarda Io ti chiederei Innanzitutto Come mai Cioè Perché l'hai messo lì C'è un motivo Immagino E quindi Di seguire quel motivo lì Io tra poco Ti dico Quali sono Le mie idee Speculative Su Bitcoin Con tanto di Stop placement Se tu guardi Lì c'è un rettangolino Rosso Intorno a un cluster Che potrebbe essere Un primo stop Volendo Per un Una posizione Speculativa Chiaramente Che non vuol dire Che Insomma Qualsiasi approccio Deve essere speculativo Se tu magari Hai messo un entry Sei entrato Per Una sorta di Non lo so Investimento Cumulo Qualcosa del genere Magari Non ti calza Quello stop Lì Insomma C'è da capire Un po' Anche questo Bravo Brividi Quando Christian Ha detto Nei prossimi anni Vivremo il più grande Trasferimento di denaro Dalla finanza tradizionale Al mercato delle cripto Chi si è già posizionato Otterrà un grande vantaggio Boom Effettivamente Non l'ha detto Solo per scillare Ma ci credeva davvero Perché Abbiamo fatto anche un sacco Di altre chiacchiere Che poi vi pubblicherò Sempre nelle prossime settimane Uno alla settimana Se riesco Per renderveli digeribili Dove parleremo Del futuro delle banche Il futuro del denaro Il futuro di bitcoin Come lo stanno iniziando a vedere Perché lui ha contatti Ovviamente col mondo bancario Venendo da lì E le persone dal mondo bancario Si fidano eccezionalmente di lui Perché conoscono le sue capacità E quindi insomma Ma ha detto certe cose Che sono veramente Veramente interessanti Vedrete Cosa usi per tenere traccia Di tutte le transazioni? Allora Se intendi trade Banalmente Vabbè Ovviamente mi scarico Dagli exchange Tutte le varie Le varie operazioni E per il resto Invece Quando diventa un po' complicato Unire le cose insieme Mi faccio un mio excel Perché in realtà Il tutto è su un mio excel Dove creo più fogli Alcuni dei quali Sono dei brutali download Grezzi Di quei csv Che vengono creati Dei report Creati appunto Dagli exchange E gli altri Ce li vado ad aggiungere Io un po' manualmente Per cercare di far tornare Tutto L'importante è che Mese per mese Mi tornino un po' Tutti i movimenti Tutte le transazioni Vale la pena Oltare MTA Secondo te Bella domanda Domanda veramente Da 10 bitcoin Questa Ti dico Il progetto a me piace E lo utilizzo Come pool di liquidità L'ho utilizzato Per questo mese Adesso tra poco Tra l'altro Se vi interessa Se vi piace sempre il format Potrei fare il nuovo video Dei miei investimenti Per il mese di agosto Insomma ogni mese Visto che faccio un po' La rotazione del portafoglio La revisione del portafoglio Vi potrei aggiornare Anche su questo Se vi interessa E in ogni caso Holdarlo adesso MTA Cioè ti dico È appena nato Il prezzo Magari è un po' Figlio della FOMO Che c'è sulla DeFi Quindi io attualmente Ti dico la verità Non allocherei Non alloco Anzi Nessuna percentuale Del portafoglio Alla categoria DeFi Questa è una mia scelta Tradingview Hub Ha introdotto il trailing stop Può servire A voglia se può servire Se nella tua strategia C'è previsto il trailing stop Può assolutamente servire Perché Oddio Si può mettere anche direttamente Nello script di Tradingview Non è difficile Però Insomma È comodo Magari farlo direttamente da lì Senza modificare lo script Insomma Dipende da quello che si vuole fare Mamma mia che botta con le alz Eh sì Ciao tutti amici Ciao Giuseppe Ben ritrovato Effettivamente le alz Hanno Hanno inciampato parecchio Ho rischiato addirittura Lo stop loss su BNB Per fortuna non me l'ha preso Sì mi sono beccato Tre stop loss con le alte ieri E meno male che ce li avevi No Perché comunque Molte alte adesso Sono Hanno una struttura Che non è per niente bella Ehi Non esiste più la parabola Ma inizia ad inciampare Ciao tutti Dopo aver bigiato parecchie live Sono di ritorno Sondaggio Sondaggio Bentornato Simone Tra noi Anche io tre stop Grande via Tutti a gara Chi ha preso più stop Io per fortuna nessuno Ma ho rischiato Com'è finita con MTA E in che senso In che senso Cioè se tu parli di quella storia lì Del fatto che c'era più diluizione Del previsto Se non erro Hanno deciso di Fare un lock Più lungo Nel senso che Chi aveva ricevuto Nelle prevendite Gli MTA Li deve tenere vincolati Per un tempo più lungo Del previsto Adesso non so quanto Per non inondare Ovviamente il mercato Di liquidità Un piccolo passo per l'uomo Un enorme passo per l'umanità Sì esatto Interessante la live di domani Come sempre Sì vedrai che sarà Veramente interessante Ci sarà Una bella chiacchierata Con Pietro Non vedo l'ora Di farla anch'io Proprio come confronto personale Ciao Luca Hai paura che un eventuale Euro digitale Completamente anonimo Possa far allontanare Da bitcoin Molte persone che lo usano Solo per questo motivo Facendone abbassare Sensibilmente il prezzo Ti dico la verità Nessun tipo di paura Di questo tipo Anzi Tipo 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 Lo ripeto un'altra volta Anzi ti dirò Secondo me Avvicinerà Molte persone a bitcoin Perché Ovviamente Tu dici giustamente Sì è vero L'anonimato Eccetera eccetera Però Bitcoin non è che sia così anonimo Perché al momento Secondo me Di anonimo su bitcoin C'è molto poco Soprattutto se qualcuno Lo utilizza Per fare transazioni Da poi riconvertire in euro L'anonimato È veramente Non lo so Quasi un mito Secondo me Chiunque abbia utilizzato Un exchange Per forza di cose L'anonimato Lo perde E soprattutto Adesso con tutta la branca Della chain analysis Che è nata Un nuovo settore A tutti gli effetti Con aziende che lavorano E vivono di quello È facile Ricollegare tutti i puntini E farvi vedere Da dove è partito A dove è arrivato Anche se ci sono i mixer Eccetera eccetera Insomma Sappiamo bene Che niente Cioè la blockchain Di bitcoin È trasparente E quindi È veramente Difficile Parlare di anonimato L'euro digitale Effettivamente Sicuramente Potrebbe avvicinare Alla moneta digitale E poi Se dovesse essere Integrato Magari Negli ecosistemi Di scambio Quindi negli exchange Con bitcoin Con altre cripto Potrebbe portare Una marea Di liquidità Perché un euro digitale Sarebbe già Nativo blockchain Magari E quindi Evitare quel Noiosissimo passaggio Tra fiat e cripto Ok Quindi magari Addirittura Facciamo un passo in più Portare maggior Privacy Anche al mondo Di bitcoin Proprio perché C'è da evitare Quell'antipatico passaggio Di kyc Per acquistare Con la moneta fiat Se l'euro digitale Ovviamente Sarà anonimo In caso Nel caso in cui Lo fosse Per me Sarebbe veramente Una Una conquista Anche per la privacy Perché è una Un bene Una Un come dire Una Un qualcosa Che si è perso Ahimè Si parla tanto Di privacy Ma la realtà È che non esiste Nello stato attuale Delle cose È veramente Difficile averla Diciamo Quanto è alta La probabilità Di un pullback A 12.000 Oddio Pullback Un altro pump Intendi Ma guarda Ti dico È assolutamente Probabile Ti dico la verità Adesso magari Confletterà un po' Consoliderà un po' Però Vedo Vedo che sta Spingendo parecchio Una volta adesso Che si conferma Il breakout Magari qualcuno Ancora titubante Per dire Aspetta qualche giorno La chiusura settimanale Qualche conferma in più Però Io vedo che la domanda Già il primo tentativo Di Dips È fatta sentire Quindi è Lo trovo probabile Maglia nera Sei tu che crei muri Bearish Di la verità No ma Ve l'ho detto Che c'è il broccolo Che è verde Quindi è verde È bullish Ritracciamento Ma a quale livello Ne parliamo tra poco Pensi possa fare Nuovamente un dump Io pensando Che andasse giù Ho venduto tutto Intorno ai 10k Eh Eh Ma hai fatto Errore più grande Guarda Ti dico Innanzitutto Se hai fatto un profitto Non te ne pentire Perché un profitto È un profitto E sicuramente È meglio fare Un profitto minore Piuttosto che Tentare il colpo E poi finire Col cerino in mano Quindi Se è quello Non penare Non ti penare E vivi sereno Poi c'è sempre tempo Ovviamente Di rientrare Perché Ci si possono Presentare Nuovi setup speculativi Se ci sarà Un nuovo uptrend Di sicuro Non finirà Nel giro di due giorni Quindi Calma Calma E sangue freddo Razionalità Inquadriamo La situazione E tutto quanto Detto questo Guarda Io In generale Disincentiverei L'idea Di comprare Tutto in una botta Di vendere Tutto in una botta A meno di necessità Ovviamente Perché Ci si espone A un singolo Prezzo E quindi C'è il rischio Appunto Di vendere Troppo in basso Di acquistare Troppo in alto Di solito Appunto Un meccanismo Di media Di fare un po' Di media Spalmata nel tempo È la cosa migliore Soprattutto se si ha investitori Per il lungo periodo Perché ovviamente Se la tua Mi dicevi Quello era il mio Take profit L'ho fatto Perché era un trade Allora hai fatto benissimo C'è sempre da fare Questa distinzione Tra trade O investimento Che è fondamentale Un saluto da Mallorca Anche in spiaggia Anche in spiaggia Le live non si mollano Voi proprio farti odiare Pure te E ti ci vedo Però Lì in spiaggia Col tuo smartphone Piuttosto che tablet O quello che è E a vedere la mia live Quando magari potresti Andarti a fare un bagno Averti un mojito A farti un aperitivo Però lo apprezzo Un sacco Grande Si può dare un'occhiata All'end btc Assolutamente sì Però dopo Quando guardiamo i grafici Si parla di polkadot Non ancora Non ancora Non ancora Abbi pazienza Ma quindi Cambia anche nome La deviazione Che cosa Ah il fork Dici Sì 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 Assolutamente Perché ovviamente Non Cioè oddio A volte succede Che La blockchain dominante Mantiene il nome Del predecessore Come è successo Con Ethereum Ed Ethereum Classic Che praticamente Ethereum Inizialmente Era fatto in un certo modo Adesso non sto a spiegare tutto Poi ha forcato S'è divisa in due E la nuova Che doveva cambiare In teoria nome È rimasta Ethereum Perché è rimasta Quella col maggior consenso E la vecchia S'è rimasta Ha preso il nome Ethereum Classic Quindi Il nome viene deciso Un po' Come dire Dalla La maggioranza Piuttosto che A seconda Dei gusti Perché ad esempio Bitcoin Cash Quando ha forcato Tutti i due I fork Hanno preso due nomi diversi ABC e SV Poi dipende un po' Dei personaggi Che ci sono dietro Ma prevedi un entry Un po' più basso Di ora breve Su BTC Guarda Al momento La risposta Sempre dipende Se stai investendo Se stai tradando Eccetera eccetera Nel caso di trade speculativo C'è un setup carino Che vi spiego tra poco Vi racconto tra poco Cosa ne pensi Della dominance Attuale Ethereum Classic Io c'ero Grande Io no purtroppo Non l'ho vissuto L'ho solo letto Cosa ne pensi Della dominance attuale Parli della dominance Di Bitcoin Guarda Tra poco L'andiamo a vedere Ma ti dico Che oggi ha avuto Un pump La dominance Di Bitcoin Proprio perché Insomma Sappiamo bene Che la prima reazione Che c'è Quando Bitcoin Comincia un movimento È proprio quella Di travaso di capitale Dalle altcoins A bitcoin Su quello Sì Non c'era da stupirsi Perché Poi soprattutto Le altcoin Erano abbastanza In bolla Quindi dopo Un periodo Di gain Ovviamente La gente fa Take profit Non c'è Non c'è Da stupirsene Di questo Attendo Il Bitcoin È dampato 8600 C'è il grafico qua Amica di credo Anche FTT Ha fatto un clamoroso Pump and Dump Contro BTC Vero 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 Perché ha fatto Un pump Nel momento in cui È uscita la notizia Di Serum Tra l'altro Perché adesso Hanno deciso Che i primi Token di Serum Verranno Air droppati A chi Detiene i token FTT Quindi c'è stato Un pump Forse per quello Dopodiché È partito Di nuovo Bitcoin E subito Quel pump È stato dampato È stato assorbito Clamorosamente In ogni caso L'andamento Non è neanche Bruttissimo Di FTT È ancora in flessione Su Bitcoin Effettivamente Però tutto sommato La struttura Di macro È buona È rialzista Perché i massimi Minimi sono ancora Crescenti Poi magari Lo vediamo Che ne dici Di nuova Nuova entry level Su BTC Tra poco Tra poco Tra poco Buonasera E buona diretta Grandissimi Gli amici di Crypto Rivista Un saluto Tra l'altro Non so se avete notato Che lì c'è una tab Loro E già che ci sono Ve la scillo subito Perché sapete Che ultimamente Collaboro molto Con gli amici Di Crypto Rivista Nei loro podcast Organizzano un sacco Di cose interessanti E tra l'altro Ultimamente Loro M'hanno proposto Io ho accettato Ovviamente Di buon grado Di condividere Un po' i miei contenuti Inerenti al trading Anche sulla loro rivista Per l'appunto Così da renderla Più completa E nel frattempo Da condividere Un po' dei miei contenuti Io di contro Non posso Che Non posso fare altro Che scillarvi Crypto Rivista Perché A me È il sito Che piace di più Italiano Per le notizie Non è di parte Diciamo È molto Ampio Come news Si tratta Un po' di tutto Appunto Il trading Le notizie I nuovi progetti Curiosità E poi Mi piace anche Il design Insomma E poi ci sono Tutti questi podcast Tutti Tutti gli eventi fatti Alcuni trovate anche me Che dire Io Fossi in voi Ci butterei un occhio È veramente Veramente carino Merita anche La loro pagina facebook Il loro canale telegram È pieno di gente Molto Curiosa Oggi Mi sa che Rischiamo il dump In diretta Anziché il pump Non lo so Speriamo di no Allora Ciao a tutti Oggi in ritardo Ero occupato a mettere Gli stop loss Mi attendo un mart gigante Che ne pensi Guarda Ti dico la verità Non lo escludo Perché Non si sa mai Con bitcoin Con bitcoin Però Insomma Più passa il tempo E il prezzo Rimane sopra i massimi E meno è probabile Secondo me Ecco Questo mi sento di dirlo Buonasera Arrivato adesso Ben arrivato Grandissimo Hai provato Hai mai provato Modelli di intelligenza artificiale Per il trend prediction Tipo long short term memory In realtà no Non me ne intendo neanche Purtroppo E sarebbe interessante Anche applicare Magari delle reti neurali Delle Degli algoritmi Di quel tipo lì Purtroppo Non sono competente Non sono competenti In quello Quindi mi servirebbe Magari un input esterno Ecco Bart gigante Sarebbe bellissimo Sondaggio Se volete Bart gigante O meno Allora facciamo Questo sondaggio Secondo me Qualcosa mi dice Che la gente Non lo vorrà Perché poi Tra l'altro Ho un altro sondaggio Pronto da fare Però Non ve lo anticipo Mi è venuta Mi è venuta L'ispirazione Adesso Il primo sondaggio È Vi aspettate Un Bart Oppure no Allora State pronti Che adesso Arriva Perché ve lo scrivo Nuovo sondaggio Vi aspettate Un Bart O no Bartone Oppure Stavolta No Sparate Vediamo Cosa ne pensate Vi ricordo Che per votare C'è il menu A tendina Qua sopra La chat Io Personalmente Diciamo Stavolta No Ecco Spero di non Influenzarvi E non votate Solo perché L'ho fatto io Allora Eccomi Ripple Holder Nella speranza Di poter uscire In pari Ai 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 Due cose Bruttissime Nella stessa frase No Mi aiuto No 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 E attenzione Il discorso Dello sperare Di uscire in pari Abbandoniamolo Vi prego Perché è veramente Una trappola mortale Ci fa fare I bag holder A vita Non lo so Beh dai Già che Già holdare Ripple È un peccato Mortale Quindi Basta 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 Allora Solana Fallito Ok Questo l'abbiamo Già letto Buonasera a tutti Rieccomi ad una live Durante le ferie Me ne sono perso Un po' Eh ci mancherebbe Dai Durante le ferie Non si pensa Alle cripto Io devo ancora Vedere se Anzi Ho abbastanza deciso Quando farò Le due settimane Di ferie Credo che farò Una completa Come dire Esclusione Dal mondo Dell'e cripto Per un po' Un po' Di astinenza Che male non fa Per tornare Poi ancora più Gasati di prima Inoltre ci sono Ok Anche questo L'abbiamo Già detto Secondo me Tra qualche giorno Il prezzo Torna sulla trendline Che si era vista Nei giorni scorsi Con ritorno a 10.000 9.800 Che tra l'altro È la zona Più o meno Che ho identificato Come entry Ne parliamo tra poco Divi è uno scam Ottimo Grazie Per il contributo Non guidate Accostate E guardate la live Esatto Mettetevi tutti Nelle piazzole di sosta Col vostro smartphone A guardare la live Cosa ne pensi Del CME Gap Che si è formato Questo lunedì Normalmente Viene sempre chiuso In questo caso Ci dovremmo aspettare Un bel dampino A quel prezzo Guarda Questo discorso Del Del gap A me non ha mai Convinto del tutto Però Devo ammettere Che è vero Spesso accade E tra l'altro Quel gap lì Si pone Se non erro Dunque Dov'è che è il gap Andiamolo a vedere Eccolo qua 9 Esatto Si pone proprio In una zona Che non sarebbe Neanche malvagia Come entry A dire la verità A prescindere dal gap E anche di questo Ne parliamo Tra pochissimo Sempre se non ci Dambiamo oggi No vabbè Speriamo di no Altrimenti poi Date la colpa a me Perché ho la maglia nera Allora 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 Dove siamo Tutti parlano di Burran Secondo me Un crollo borsa Inevitabile Con conseguente Ritracciamento BTC Anche il discorso Di correlazione Borsa BTC Io tenderei ad abbandonare Perché ci induce Poi in ragionamenti Forse un po' fallaci Non lo so Sono due cose Molto diverse Io solitamente Guardo in differita Sul tubo Per comodità Bene Mi fa piacere Perché tanto Anche lì rimane Attendo una tua analisi Su Ether Dollar Che non sono Ancora a 32 Ah Vuoi fare il validator C'è qualche validator Qua Va bene La facciamo tra poco Settima live Grandissima Ormai sei una Delle più fedeli Avevo degli MTA Comprati a 3 dollari Avevo deciso di cambiarli Prima che dampassero Perché avedevo Una situazione Abbastanza bearish Ho voluto provare L'exchange hotbit Oh mamma mia Non l'avessi mai fatto 0,001 BTC Di commissione Su withdraw di BTC Mamma mia Un furto a mano armata Praticamente Pazzesco 10 Cos'è 10 dollari Di commissione Sì una rapina a mano armata Direi di Di evitare L'exchange hotbit Non l'ho mai usato E credo che mai Lo farò Dopo che Dopo questa Questa dichiarazione Ciao Luca Quanto utilizzo Il crypto screener Su trading view Nella lista Lo stesso cambio Compare più volte Perché nei criteri Sono inclusi più exchange C'è un modo Per non vedere i doppioni Ma comunque includere Più di un exchange In una ricerca Allora E purtroppo Il discorso è che Oddio Tu puoi flegare Singolarmente I singoli exchange Per chi non lo sapesse Si parla Dov'è 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 Adesso non mi ricordo Mi pare che sia Proprio sul sito Tradingview La home page In ogni caso C'è lo screener Crypto Eccolo Eccolo qua E' un tool utile Per chi non lo conosce Praticamente ci permette Di andare a vedere Scegliere Scegliere un po' di parametri Qua Vedete Possiamo sceglierli Filtrare E in questa tabella Che contiene tutte le copie di crypto Andare a vedere solo quelli che soddisfano i nostri parametri scelti Ovviamente Tra le varie cose Adesso non ricordo Avevo forse Salvato qualche Sì qualcosa Allora Aspettate Perché volevo farvi vedere Che tra le varie colonne Vabbè Si possono mettere anche gli exchange Adesso non mi ricordo perché è da una vita che non lo utilizzo più In ogni caso Vabbè Lasciamo stare Se no ci perdo Ci perdo tutta la giornata In ogni caso Il discorso è che Purtroppo O si flagga ogni exchange Magari si rischia di avere i doppioni O altrimenti Si sceglie un exchange solo Ad esempio Solo Binance Ti vedi tutte le copie su Binance Ci dovrei smanettare un po' Per ricordarmi come si usa Tutto quanto Però non voglio farvi impazzire E perdere tempo Quindi magari un'altra volta Ci avevo fatto anche un video Su questo Se vorreste approfondirlo È molto carino come tool Allora Sì sarebbe interessante un aggiornamento E ce lo vediamo Eccomi in ritardo Stavo guardando il video su Konio Spero che ti sia piaciuto E ben arrivato tra noi Comunque Akala È a detta degli insider Che seguono Polkadot Dall'alba dei tempi Il miglior progetto esistente ad oggi Uno di quelli In cui gli holder di Dot Hanno interesse nel prestare i Dot Per ricevere token È una sorta di MakerDAO Di Polkadot Ma con diverse varianti Molto interessante Mai incuriosito Pretendo qualche shitcoin Te la sei assolutamente guadagnata Aspetta Guarda dove sei Te la do immediatamente Perché quando ce vò Ce vò Insomma Tu partecipi Sempre Dandoci gli insights Sulle shit Sulle shitcoin No Sulle altcoins E quindi te ne vecchi 50 A sto giro Tac Non spenderle tutte Mi raccomando Allora Come holder Esiste un livello di prezzo tale Per cui venderesti Tutti i tuoi BTC Per non andare a perdere Tutto il capitale Oddio In che senso Cioè come holder Per definizione È un po' Cioè è un controsenso A vendere tutto A meno che Non ci sia un motivo Per farlo Cioè se io vorrò Sempre investire Una parte del mio portafoglio In Bitcoin Perché C'ho un motivo Per farlo Allora lo continuerò a fare E se dovessi vendere Di sicuro Non venderei tutto Io al momento Ho un exit strategy Molto lenta Adesso Vendo veramente Una piccolissima parte Ogni tanto Giusto per dire Ho fatto qualche profitto Nel tempo E poi In futuro Magari Incrementerò Diminuirò E soprattutto In base Al bilanciamento Del portafoglio Cioè se io voglio avere Un 30% in cripto Dico una cifra arbitraria Perrò Tot Bitcoin Rispetto al cash Rispetto alle azioni Eccetera eccetera Se vorrò Aumentare o diminuire Quella percentuale Mi comporterò Di conseguenza Ovviamente Se voglio il 30% Del mio portafoglio In cripto E Bitcoin Mi pompa Ai massimi E mi diventa il 40% Venderò quel 10% Per ritornare al 30% Perché è importante Avere bene in mente Come si vuole strutturare Il proprio portafoglio Questo è fondamentale Mi sono perso Un sacco di video Hai chiuso la copertura Su BTC Sì Oggi L'ho chiusa Esattamente oggi La copertura Infatti è sparita Anche dal grafico Sì sì Lo short Praticamente di copertura Lo avrei chiuso Nel caso in cui Avessimo chiuso Almeno una candela giornaliera Sopra al range Al di fuori dal range Quindi oggi Ho chiuso Il mio edge E addirittura Adesso sto valutando Se entrare o meno In una posizione speculativa Long Che mi sta stuzzicando Aiuto Sono fuori dal tunnel Di bitcoin No mai mai Ho visto che ti occupi Di trading automatico E qualche consiglio Su come iniziare Vorrei provare Prima di sviluppare qualcosa Vabbè Allora innanzitutto Di capire il trading Perché bisogna Comunque impostare Una strategia In base a degli indicatori In base a un Dei segnali Ecco E poi Vabbè Se tu sei uno sviluppatore Conoscerai già Menadito python Che è uno dei linguaggi Più utilizzati In tal caso Prova Fai qualche tentativo Ci sono dei software Tipo backtrader Che ti consiglio Me l'ha consigliato Un amico della community Che serve proprio Per fare backtesting Ma anche mi pare Live testing È open source E è Mi pare Programmabile in python Quindi Ci sono delle librerie Discretamente semplici Le ho capite anch'io Per farti capire Il livello E ti direi Di iniziare da lì Mi sembra un ottimo tool Complimenti per il video Con Conio E sarà davvero interessante Sapere come si incomincia A interfacciare Il mondo bancario Con il mondo cripto È già Una domanda Pensi di fare qualche altro video Sul trading automatico Eh beh che domande Un po' di tempo fa Su telegram Ti avevo mandato Uno script Che potrebbe essere interessante Complimenti per tutti I tuoi contenuti Ah mi ricordo forse Però mi sa che era il periodo Di casini con youtube Alla fine me l'ho Concentrato su altro Me lo riguarderò bene E comunque sì Ne faccio sicuramente altri Sul trading automatico Come lo vedi PNT Per il medio termine Guarda ti dico la verità Non l'ho seguito molto E forse ho sbagliato Perché ne ha fatti Di bei numeri Però al momento Te l'ho detto Le coin defi Non Come investimento Non le vedo benissimo Come speculazione Invece sì Ti scillo Culupu È ether Proof of work Con governance Costruita con substrate Consensus Random X Culupu Me lo studierò Me lo guarderò Attualmente è solo minabile Mai vendere Prima dell'all time high Questa è la filosofia giusta L'essere troppo greedy Mi ha sempre portato Rimpianti Vero Verissimo E alla fine L'avidità Come la paura L'euforia Sono tutte quelle Emozioni Che fanno danni Ti voglio fare una domanda Che solitamente Non vedo fare Come decidi I prezzi di acquisto Di lungo termine Cioè come investimento E non come trade Ti dico la verità Banalmente In quel caso lì Forse la cosa migliore Da fare È fare un piano D'accumulo Io ad esempio Lo sto facendo Con FTT Al momento Ogni fine mese Vado A fare un piccolo Acquisto Fino ad arrivare Alla percentuale Di portafoglio Desiderata Che per FTT Per me è il 2% E me ne frego Del prezzo A dire la verità Poi ti dico Ho fatto un'eccezione Ad esempio con Bitcoin Quando aveva dampato Del 50% In un giorno Che ho detto Vabbè qui è veramente Un crimine Non fare un piccolo Acquisto Però Per evitare Di Come dire Espormi troppo Poi ho aperto Lo short di copertura Poco fa Insomma Quando eravamo in range Quindi Sempre stando attento A non esagerare Perché Facendomi prendere Magari dall'euforia Dico ma sì Faccio un acquisto In più Fuori dal programma Fuori dalla strategia Bisogna sempre Rimanere belli quadrati In ogni caso Ti dico Guarda La strategia più semplice È fregarsene del prezzo Altrimenti Fregarsene del prezzo A meno che Non ci siano situazioni Particolarmente invitanti Come Un dump Del 50% In un giorno Che magari Dici Ok Se io ho pianificato Di fare un acquisto Di toto Ogni mese Facciamo che lo anticipo Lo faccio oggi Perché porco cane Direi che un prezzo così È difficile che mi ricapiti E quindi qua C'è una giustificazione Però altrimenti Un banale Piano d'accumulo Dove lo scopo È mediare il prezzo D'ingresso Deve essere quello Un po' lo scopo Perché su ipotesi Poi di uptrend Duraturo Funziona E cioè Come dire Ci dà sicuramente Profitto Più che Acquistare tutto In una botta Che rischia di esporci Particolarmente A un prezzo Che se è troppo alto Poi ce ne pentiamo A tal proposito Volevo fare un video Anche sui piani D'accumulo Magari Dandovi uno scriptino Che vi simula Un po' l'andamento Nel tempo Cioè Con alcuni parametri Che si possono scegliere Direttamente su TradingView E quindi Ma sì Lo farò Lo farò Per farvi vedere Un po' la performance Effettiva del piano D'accumulo Dov'è 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 Eravamo qua Eccoci Allora Andato in pari con Etc Ma hai più toccato Una alt Etc addirittura Ciao sei un mito Grazie Detto questo Volevo chiederti Se nel trading con altcoin Consigli il cambio Alt bitcoin O alt usdt Oppure stable Comunque stable coins Ti ringrazio in anticipo Guarda È una domanda Che ogni tanto Esce fuori Ma è sempre Interessante Trattarla Perché Io personalmente Opero solo Ed esclusivamente Su alt Btc Per quale motivo Beh duplice Il primo è che ovviamente Uso come base currency Btc Quindi io Nel mio portafoglio Ho Btc E Uso quello Come collaterale Per i trade Quindi le altcoin Le compro sempre In Btc Mai in usdt Seconda cosa È perché Il cambio Alt Btc Screma Cioè filtra già Il movimento Di Btc Ad esempio Oggi o ieri Che Btc ha pompato Oggi no Ieri più che altro Magari si è visto Delle altcoin Andare in positivo No Dei più 3% Magari Però Btc ha fatto Il più 10 Quindi alt Btc Magari era un meno Una bella cifra E quindi secondo me È più veritiero Andare a vedere Alt Btc Perché graficamente Secondo me Si comporta meglio Ho notato questo Più regolare E inoltre Screma appunto I movimenti di Btc Cioè ti dà Capisci la struttura Di mercato Dell'altcoin stessa Senza Essere influenzata Dai movimenti appunto Di Btc Bello il video di Cogno Troppo breve Addirittura troppo breve Gavi 25 minuti Mi emozionate Quando dite così Grande Luca Mi sono collegato Solo per controllare Lo stato dell'abbonamento Ci vediamo sul tubo Viva Ripple Ti ringrazio Guarda Tu sei uno degli abbonati Secondo me Più di vecchia data Perché vi ricordo Che è con Scillata Con Amazon Prime Potete usare Twitch Prime E abbonarvi Gratuitamente Al mio canale Facendomi una piccola Donazione Insomma È un modo Per contribuire Sapete che io Due modi Vi do per contribuire Queste occasionali Donazioni E i miei Referral link Che anche quelli Non vi costano nulla Perché Non è Non mi piace Fare video Solo per chi paga O cose del genere Quindi i miei video Saranno sempre Disponibili A tutti quanti Gratuitamente Ovviamente Agosto Statisticamente Mese Bear Come lo vedi Ma guarda Lasciano un po' il tempo Che trovano Quelle statistiche lì Qualcuno oggi Diceva Sì adesso la gente Venderà per andare in vacanza Non lo so Io non ho in programma Di vendere Per andare in vacanza Ci vado con Con la valutaccia Fiat Quindi i miei bitcoin Non me li tocca nessuno Dobbiamo esaurire Prima l'inverse Head and shoulders Ammazza Ma c'è un inverse Head and shoulders Aspetta che faccio Un po' di zoom out Qual è Qual è Questo Cioè gigante Nel caso Che target ha Un target Infinito Cosa sarebbe Tipo 19.000 18.000 Se Head and shoulders È tipo questo Che sarebbe Tac 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 Beh Speriamo Dai Non facciamo i moonboys Ma speriamo Allora 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 Il sondaggio è finito E voi Vi aspettate un barto o no? Stavolta no Bravi Mi piacete così In 40 hanno votato Stavolta no E adesso vi faccio Il secondo sondaggio Ovvero Avete Comprato BTC In questi giorni Col breakout Sinceri Eh Sì Non ancora Sinceri Sinceri Mi raccomando Votate 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 Allora Che Ecco che Qualcuno chiede Che cos'è il Bart Il Bart è un grafico Con la forma Di testa Di Bart Simpson Esattamente Guarda Il Bart Sarebbe Questo Quindi abbiamo Una parte di testa Tac 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 E poi Giù Questo È il nostro Bart Ciucciami il calzino Andiamo avanti Tra l'altro È quasi L'ora dei grafici Mi raccomando Leggo le ultimissime domande Non so se segui La situazione Tether Ma il procuratore Generale di New York Ha riaperto Un'investigazione Sì Ho visto Ho visto La situazione Non mi piace Per nulla USDT Molto poco Trasparente È vero Questo Ti do Assolutamente Ragione Però C'è anche un però Consideriamo Che ci sono I maggiori Exchange Al momento Binance E compagnia bella Che hanno Una riserva Gigante Di USDT Li usano Nei loro prodotti Landing E quindi Io mi chiedo Cioè Loro rischierebbero Così tanto Su un asset Davvero a rischio Di insolvenza A me viene da dire Di no Loro sarebbero I primi Credo A voler fare Un passo indietro È un po' Non lo so È vero Che è poco Trasparente Nemmeno a me piace USDT Infatti Tendo a prediligere Altre stable coins Quando si tratta Di holding O di metterle A rendita passiva Ad esempio Su BlockFi Celsius E Nexo Però Preferisco Cioè Non fare Del panico Non Non penso Che collasserà Da un giorno All'altro Sinceramente Ho letto Il white paper Di Tedere E mi sono messo A ridere Ci sono scritte Certe robe Tipo E beh Che non ti assicurano E beh Ovvio Ovvio Ma guarda Per quello Non ti stupira Perché se leggi Qualsiasi white paper Delle crypto Comunque leggi Delle robe Ghiaccianti Del tipo che Si potrebbe riassumere In due righe Una riga Anzi Se compri questo token Sono cazzi Tuoi Punto Questo è il white paper Sono le note legali Di qualsiasi white paper In mondo crypto Questo è Purtroppo Ethereum 2.0 Uscirà nel giorno Del poi Nell'anno del mai È fondamentale Però Cioè È importantissimo Che esca Perché vedete bene Che Ethereum Ha dei limiti Di scalabilità Pazzeschi Vabbè dai Facciamo un attimo Uno stop alle domande Andrei avanti A leggervi Per tutto il giorno Ma siamo già 55 minuti Quindi è il momento Un po' Dei grafici Allora Cominciamo Dal nostro BTC BTC Che Ci fa godere Perché Finalmente Ha rotto Ha rialzo Facendo un massimo Dal Dal Agosto 2019 Quindi da un anno Oserei dire E rimanendo Sul breve Sull'ultimo periodo Che eravamo Vi ricordate Con il movimento Laterale In essere Quindi questo Triangolo Che avevamo Identificato al tempo Che era stato rotto Tuttavia Eravamo ancora All'interno del range Che vedeva Questo come range high E questo come range low E siamo usciti Da qualsiasi Confine Quindi sia del triangolo Che del range La fuoriuscita del range Inoltre Ha creato Un higher high Vabbè Rispetto all'ultimo Che è il range stesso Un higher high Rispetto a febbraio Vi ricordate Quando siamo arrivati A 10.500 E poi abbiamo Dampato clamorosamente Nel periodo Covid Nel periodo in cui C'è stata la caccia La liquidità La fuga Da qualsiasi asset Verso Il cash La corsa al cash C'è stata E dopo di che Bitcoin è stato Pazzesco Perché ancora più Velocemente Della borsa tradizionale Ha recuperato E adesso Finalmente Ha segnato Nuovi massimi Mangiandosi del tutto Tutto questo Damp Che è stato Uno dei dump Peggiori Della storia Di Bitcoin Inoltre Inoltre Si è andato a mangiare Anche quest'altro High Di ottobre Del 2019 Che era Quel periodo Di forte Downtrend E quindi Adesso Non resta che Confermare Questa cosa Ovvero Confermare La rottura Del range E confermare La L'year high Quindi L'inversione A tutti gli effetti Della struttura Di mercato La struttura Era ribassista Fino a Marzo 2020 Perché poi Vedete Questa è stata Un'anomalia Ed è rientrato In questo canale Discendente Che è stato Ciò che ha guidato Il movimento macro Fino appunto A pochi mesi fa Cioè Sembra assurdo Ma Se ci pensate Pochi mesi fa Marzo Giugno Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Cinque mesi fa Eravamo A 4000 dollari Cioè Sembra assurdo Ma è così E Dopo C'è stato appunto Questo rally pazzesco Che ha mangiato I massimi Recenti E ha invertito A tutti gli effetti La struttura Da lower lows Lower highs Come era prima A parte questa anomalia Che purtroppo è stata assorbita Finalmente abbiamo Il primo higher high Adesso Ovviamente Vabbè C'era stato nel frattempo Questo uptrend Dato dall'impulso Rialzista E la lateralizzazione Che avevano Introdotto Una loro struttura Più di breve Però Perché il macro Ovviamente Non può Prescindere Da quanto successo Prima E Quindi La rottura Questo higher high Va Incide Su più strutture Sulla struttura Dell'ultimo periodo E sulla struttura Anche macro Perché va a creare Un blocco di bottom Se così lo vogliamo chiamare Che è tutto questo In quanto appunto Rompiamo Una sorta di neckline Che era quella Che forse Ci diceva prima L'utente in chat Che ha un lungo Una lunga 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 Storia Quindi veramente Si tratta di una rottura Molto molto importante Chiaramente C'è il solito discorso Ovvero La rottura È fresca Quindi Non è ancora Confermata Come si può Parlare di conferma Quando si può Parlare di conferma Ovviamente Ci sono alcuni parametri In particolare Due Che tendono a confermare O ad assorbire Il break stesso I due parametri Sono il tempo Ovviamente Perché per più tempo Rimaniamo In questa zona Qua sopra E più è alta La probabilità Di conferma Ok Questo banalmente Perché il mercato Sta accettando Quel prezzo Significa La seconda cosa È la distanza Nel senso che Ovviamente Noi adesso Siamo qua Se andiamo A finire qua Diventa Molto più probabile La conferma Appunto Di rottura Di questi livelli Non vi sto Dicendo niente Di sconvolgente Ma solo È importante Capire che Questi due parametri Sono importanti Per pesare Ok La probabilità Di break Oppure no Perché Come qualcuno Accennava Non è così assurdo Immaginarsi La possibilità Di BART Non sarebbe La prima volta Per questo motivo Un entry Attuale Adesso In questo momento Sarebbe Un entry Anticipatore Secondo me Perché Perché ovviamente Non abbiamo ancora Quasi nessuna conferma Siamo veramente A un breakout Che è neonato È appena È appena Saltato fuori Per quanto ci siano Volumi Per quanto abbiamo avuto Il break Abbiamo avuto Ecco se vogliamo Un primo segno Oggi C'è da vedere Come chiude il daily Però È un segno Che a me piace Ovvero Questa candela Di oggi Ok Questa qua Praticamente Ha tentato Di flettere Un po' E si è presentata Domanda Vedete qua C'era un meno 2% Che c'è stato Un po' Stamattina E la domanda Subito ha incalzato Come per voler Difendere Quella che prima Era una resistenza Se vi ricordate Il concetto Di flip Da resistenza Supporto Prevede proprio Questo Ok La rottura Di un pool Di liquidità Che l'avevamo Identificato qua Soprattutto Proprio perché Avevamo Questo top Quest'altro top E quindi Qua sopra Ci sono tutti quanti Gli stop Ok Della maggior parte Degli short Rimasti aperti Gli short Che sono stati Aperti Magari qua Gli short Aperti qua Gli short Di coloro Che hanno provato A fare counter trading Magari qui Hanno messo appunto Lo stop Da quelle parti lì Per tenerlo stretto Eccetera eccetera Quindi Qua c'è Un sacco di liquidità Un pool di liquidità Cosa significa questo? Beh Significa che I grossi capitali Le cosiddette balene Sono interessate A incidere Su quella liquidità lì Perché? Perché sanno I market maker Soprattutto Che ho scoperto Tra l'altro Che molti exchange Fanno dei programmi Per i market maker Apposta Ovvero Coloro che offrono liquidità Sui loro order book E pensate un po' a voi In cambio I market maker Conoscono Tutti gli stop Tutti i limit order Tutto insomma Sanno tutto E quindi Sono interessati Chiaramente A spingere Il prezzo Verso Quei pool di liquidità Per innescarli Perché Andare a spingere Il prezzo qui Significa L'avevano detto Innumerevoli volte E l'ultima volta È stato proprio Quando abbiamo anche Inquadrato il pool stesso Vuol dire Creare Degli stop buy Triggerare Degli stop buy Che fanno Partire un altro impulso E poi Chiaramente Chi è interessato A far scattare Quella liquidità Lì può avere Un duplice scopo Il primo può essere Andare a fillare Degli short Quindi far pompare Il prezzo fuori Fillare degli short E riportare dentro Far assorbire L'impulso Dal prezzo E con i loro short Fillati E poi dare una Prosecuzione Ribassista Di contro L'altra possibilità È voler Semplicemente Innescare Un movimento Sostenendolo Quindi Facendo innescare Quella liquidità Lì E poi Sostenendola Con i loro ordini Da market maker Sull'order book Tenendo salda La domanda E portando avanti L'impulso rialzista Con l'aiuto Anche del sentiment Di mercato Chiaramente Che si viene a creare Di conseguenza E quindi Bisogna capire Una volta che andiamo A colpire Quel pool di liquidità Lì Che sappiamo Che lo colpiremo Perché Se andiamo In quella direzione Lì Solitamente Quando andiamo Ad attaccare Un range high Quando andiamo Ad attaccare Una resistenza Un supporto Non c'è mai Un movimento Prima di un attacco Al pool di liquidità Spesso e volentieri Come ad esempio Accaduto qui Come accaduto qui Come accaduto qui Insomma Potremmo trovare Veramente innumerevoli punti Dove è accaduto Si ha Un attacco Al pool di liquidità Come qua ad esempio E poi Un assorbimento Track Oppure Un attacco Al pool di liquidità E poi Un movimento Concorde E via E lì allora Abbiamo la rottura Effettiva del livello Perché il pool di liquidità Ci fa da miccia Che inizia ad accendere Il fuoco Quindi La cosa che ci rimaneva Da vedere Era Ci sarà sostegno Ci sarà assorbimento E questo purtroppo Sta ai due parametri Che abbiamo visto Poco fa Quindi Più tempo Rimaniamo qua sopra E più È probabile Che i market maker Vogliano Sostenere quel livello Di prezzo Perché il mercato Lo sta in qualche modo Accettando In particolare Se nella permanenza Qua sopra I volumi Rimangono comunque Sostenuti Perché significa Che c'è tanto scambio Quindi Non è che C'è il pump Superiamo il livello Rimaniamo piatti Lì Ma lo scambio muore Non ci sono più trade No Quello Non sarebbe neanche Un bellissimo segno A dire la verità Se invece il volume Rimane sostenuto C'è tanta attività Di scambio Significa che Punti trader Il mercato Accetta quel prezzo Lì E quindi diventa Più probabile Il breakout Avvenuto Questo è un insight Che uso molto spesso Tempo E spazio Quindi Se poi abbiamo Un follow up Rialzista Di nuovo Quella è un'ulteriore Conferma Ovviamente Qual è il contro Di aspettare le conferme Il rischio di miss Ne abbiamo parlato Tante volte Ovvero Più aspettiamo Conferme E più rischiamo Di non Entrare mai Perché ovviamente Magari la conferma Non arriva domani Parto un'altra leg up E noi rimaniamo lì A guardare C'è sempre purtroppo Non esiste il trade perfetto Cioè ci si può avvicinare Al trade perfetto Ma non esiste E laddove ci si guadagna Su una cosa Cioè sul minor rischio C'è un maggior rischio Di qualcos'altro Ovvero di miss Quindi Minor rischio di posizione Maggior rischio di miss E tendenzialmente Anche miglior profilo Rischio rendimento Equivale a un maggior rischio Di miss E spesso e volentieri Vale il contrario Quindi un Minor rischio di miss Comporta un maggior rischio Di posizione Perché entriamo In anticipo E quindi con meno conferme E quindi il nostro stop loss Potrebbe saltare Con più facilità In questo caso Per essere estremamente Concreti Il discorso È Abbiamo fatto il breakout Abbiamo comunque Dei buoni supporti sotto Al momento Che appare Anche Possibile Già un flip Con questo primo tentativo Di oggi E quindi C'è la possibilità Di setup Di entri Sul retest Del supporto stesso In che modo? Allora Prima cosa Individuare I livelli di ingresso Io ne ho individuati due Perché due? Perché anche in questo caso Vige il discorso di prima Maggior rischio di miss Maggior profilo rischio rendimento E viceversa Scusate Maggior rischio di miss Miglior profilo rischio rendimento Che è l'entry area 2 Minor rischio di miss Che è l'entry area 1 Peggior profilo rischio rendimento In particolare L'entry area 1 Nasce tra questa chiusura E il top assoluto Della shadow Prima del breakout La solita regola E quindi È una zona Un'area Chiaramente Non un livello fisso E si configura bene Perché comunque È una zona In cui si dovrebbe Stando alla teoria Del flip Resistenza supporto Essere creato Un pool di liquidità In domanda Al momento Se è vera Questa ipotesi Chiaramente Altrimenti Abbiamo sbagliato E dobbiamo metterlo Stop loss In maniera concorde L'entry area 2 Cosa ho fatto? Spostato tutto L'entry area 2 È un pelino più in basso Va a finire Fino a 10.000 Quindi fino a questo Top scorso E in sostanza Va ad aggiungersi È adiacente All'entry area 1 Appena sotto È un gradino sotto Diciamo così Sotto all'entry area 2 In realtà Si torna già All'interno del range Perché vedete Che la maggioranza Dei volumi Sono mossi Qua dentro All'interno del range Quindi Scendere sotto All'entry area 2 Di per sé È già un cattivo segno In particolare Se ci iniziamo A chiudere delle candele Perché Il breakout Immaginatevi un andamento così Il breakout sarebbe In buona parte assorbito Non so A me Farebbe schifo Vedere una roba del genere Quindi L'entry area 2 Chiaramente Si pone come entry A miglior profilo Rischio rendimento Perché Ci si può permettere Uno stop più stretto E soprattutto È un entry A prezzo più basso Quindi se già Volessimo fare Un primo take profit In questa zona Saremmo già Avremmo già appunto Un profit più alto In termini di rapporto Al rischio Cancellare un po' di schifezze Eccole E L'entry area 2 Quindi Idealmente Nasce con questa idea Supponiamo che Non lo so C'è qualche movimento Eccetera eccetera Poi c'è un flash dump Quindi Tipo oggi Ma in maniera più forte Una Shadow E poi viene immediatamente Riassorbito Dalla domanda Succede spesso Su bitcoin Tipo qua Tipo Qua Anche insomma Questi flash crash Per dire Che vanno a innescare Coloro che magari hanno Aperto dei long Su questa In questa zona A leve Esageratamente alte Cioè sono certo Che c'è gente che l'ha fatto E sicuramente i market maker Ci punteranno gli occhi contro Sui loro stop Dicendo Aspetta che te li mangio tutti E vado ad aprire dei long Io Sui tuoi dannatissimi stop E quello Con buona probabilità Ci proietterebbe Dritti Nelle entry area 1 e 2 E magari anche un pelino Più in giù Quindi c'è da stare attenti Anche a mettere Gli stop Non metterli troppo stretti In questo caso Viene ideale A mio parere Uno stop Alla chiusura Della candela giornaliera Perché In quel caso qua Potrei permettermi Di metterlo già Qua sotto All'interno del range Dicendo Se chiudiamo Delle candele Lì sotto Non mi piace Neanche un po' La situazione Quindi io voglio uscire Ok? Ho sbagliato Il setup Era errato Altrimenti L'altro stop Vedete Avevo disegnato Questo clasterino qua Che appunto Nasce da qui Tra i 9.540 E i 9.6 Qua sotto Ok? Quindi sotto questo cluster Perché comunque Tutto questo Impulso Sarebbe assorbito E beh Direi che è un segnale Discretamente bearish Cioè Andiamo a rompa A fare un breakout Da un massimo locale Facciamo un higher high E tutto quanto E poi lo riassorbiamo Tutto quanto l'impulso Beh è una cosa Non dico tragica Ma quasi Cioè Di sicuro Non vorrei essere Dentro long In quel caso lì E quindi Ecco Quella è una seconda Idea di stop Ovviamente Il discorso Rischio rendimento È palese Perché se noi Entriamo nell'entry area 1 E mettiamo lo stop Qua sotto È largo E quindi Se ipotizzando Un take profit Già i massimi In zona massimi attuali Cosa che non farei Perché io tenderei più Sul trend follower Abbiamo un RR Pari a 1 O poco più Che è poco appetibile Se invece ci spostiamo Nell'entry area 2 Abbiamo un RR Di tutt'altro tipo Abbiamo un 2 E passa Che potrebbe già essere Più appetibile Ovviamente Questo si sposa Si abbina A un maggior rischio Di miss Perché magari Nell'entry area 2 Non ci arriviamo Magari Fa il suo flash dump Pesca dall'entry area 1 E poi continua a salire Quindi Insomma È il discorso un po' questo Ci sono varie possibilità Non esiste il trade perfetto Laddove si guadagna Su una cosa Si pecca di più Su un'altra Purtroppo Il mondo Il mercato È fatto così È fatto da trade off E quindi Questa è la situazione Io sono fortemente tentato Da un ingresso Misto Un po' nell'entry area 1 Un po' nell'entry area 2 Cioè Entrerei un po' Frazionando posizioni Qui dentro E con uno stop loss Dalla A chiusura candela Con magari Un hard stop Qua sotto Giusto se Per non andare a letto Senza stop Nel caso Però io credo Che metterei Prediligerei Cioè se vedessi Chiudere delle candele qui Ciao Ci vediamo un'altra volta Ecco Questa è un po' La mia idea Del momento Dunque Per fare un po' Di fomo in più Giusto Perché io dico sempre Di essere razionali Ma poi mi piace Fare un po' Di fomo Volevo farvi Vedere Cos'è sto Obrobrio Che obrobrio No volevo farvi vedere I grafici un po' Più di time frame Elevati Soprattutto il mensile Mi piaceva Sì Allora Tiriamo via Scusate Abbiate pazienza Perché Ho fatto veramente Degli abomini Su questo grafico Allora Tac Perché se vi ricordate Avevamo fatto Dei commenti sul macro Sul quadro macro Guardando il grafico mensile E mi piace aggiornarli Perché guardate Che bella spinta Che stiamo dando Soprattutto La cosa che mi piace È che Potremmo Oggi è il 28 Di marzo Quindi siamo vicini Alla chiusura Del grafico mensile Potremmo chiudere Sopra i 10.800 Questo è il mercato spot Su Bitstamp Quindi Vedete Se chiudiamo qua sopra È un higher high Mica da poco Perché poi L'altro high Che ci rimane È quello Del 2017 Non so se mi spiego Si spinge Si spinge parecchio È una configurazione Che fa veramente Veramente gola Insomma Se poi Ad agosto Abbiamo un altro Follow up È vicino Il massimo storico È la chiusura È a 14.000 Quindi Non è poi così lontana Da dove siamo adesso Il resto Il resto Sono shadows Sono fluttuazioni Intra month Comunque Vedete che La domanda È viva e vegeta Anche sul mensile Perché le candele Più grosse Sono verdi Qua abbiamo fatto Un break Dalla fase di lateralizzazione Che durava Dal 2017 Quindi è un segnale Fortissimo Anche questo Higher high Rispetto Allo scorso Di giugno Luglio 2019 E adesso Vediamo Se chiudiamo Qui da qualche parte Poi anche sul mensile Vigono le stesse regole Che abbiamo detto Poco fa Sulle conferme Mica conferme Tuttavia Ovviamente sul mensile È già una chiusura Con immediato Magari non immediato Dump Nei primi giorni Di apertura Della candela seguente È già un segnale Molto molto più forte Insomma La struttura è bullish Non ve lo devo spiegare io Fintanto Fino a prova contraria E la prima prova contraria Sul time frame Giornaliero Sarebbe Il riassorbimento All'interno di questo Rage Questo è Il quadro Ovviamente Aprire posizioni short Adesso È da suicidio Non lo farei Neanche sotto tortura E questo è Poi Andiamo a vedere Qualche alt Allora Partendo da cava Perché è quella Che ho chiuso stamattina Allora Cava Praticamente Dunque Io vabbè Ho avuto un po' di fortuna Perché una parte L'ho venduta qua Durante quella Folle Iperestensione Ho visto un più 30% In un giorno E così come ho detto Guardate Un acquisto di bitcoin Con un meno 50% In un giorno Mi sembra quasi obbligatorio Anche dopo un uptrend parabolico E una candela Da più 30% In un giorno Al top Di un trend parabolico Non fare un take profit Mi sembrava veramente Una mossa Non so come definirla Ecco E quindi l'ho fatto Vabbè Al di là di quello La mia idea Era di andare a fare Una posizione trend follower Cosa vuol dire? Vuol dire che Fintanto che non ho Un'inversione di struttura Un setup short In altre parole Tengo aperta la posizione La struttura Si è venuta a formare qui Allora Primo segno Ne abbiamo parlato Anche negli scorsi live Non è una cosa detta Col senno di poi Ma ve l'ho detto I giorni stessi Chi c'era Può confermare Quando abbiamo visto Questa candela qui Io che cos'è Che vi avevo detto Se vi ricordate Io odio essere Quello che dice Ve l'avevo detto Perché non voglio fare Il maestrino Né niente Non lo sono assolutamente Però questa candela È molto eloquente Adesso ne abbiamo La conferma Questa candela È composta Da FOMO buyers Che hanno spinto Il prezzo fin qua E poi Gli smart sellers Chiamiamoli Che hanno dampato Sulla loro fronte E questo è il risultato Una candela Con upper shadow Lunghissima Era un 20% Di upper shadow Ricordo L'avevamo anche misurata Per vedere Chi c'era più lunga E poi Un body rosso In controtendenza Addirittura Col trend Questo Non è una candela D'arresto Questa è una candela Di sell off È una martellata Sulla fronte Dopo infatti Si è arrestato Innanzitutto L'up trend Avevo detto È una fase Di solito Queste candele Indicano fase terminale Di un up trend Che non vuol dire Che subito invertiamo Può voler dire Che continuiamo A andare un po' su E poi però Andiamo a invertire dopo Fase terminale Di up trend Questa candela Per me significa No long Punto E addirittura Se sono già long Iniziare a pensare Alla chiusura A un exit strategy Quindi poi Se abbiamo avuto La conferma I giorni dopo Di lateralità E poi Vedete che abbiamo avuto Tac Questo break E qua è stata Una prima inversione Di struttura Con follow up Di offerta Terrificante E poi Sul primo supporto Che è questa area Di liquidità Che avevamo Vi ricordate Evidenziato Tempo fa C'è stato Il primo segno Di domanda Ok Allora La mia idea era L'avevo pubblicata Su telegram Un po' di giorni fa Visto l'inversione Di struttura Cosa ho fatto No Visto questa cosa qua Di dire Ok Adesso va a cercare Lo swing low E poi cercherà Lo swing high Io mi immaginavo Una cosa così E poi risale E poi trova Il lower high E conferma L'inversione di struttura La mia idea era Di vendere qui Ok Che è una cosa Che è facile A parole Ma impossibile A fatti Chiaramente E allora cosa ho fatto L'idea era Di andare a cercare Un target di prezzo All'incirca qua Perché vale la stessa storia Del breakout Retest Al contrario Abbiamo un breakdown E volevo andare A prendere Il bottom Della shadow Per cercare Di uscire Con il massimo Profitto Alla fine Stamattina Ho visto Questa candelozza Verde di euforia Non so Da cosa sia data In una struttura Che comunque Rimane invertita Per adesso Finché non facciamo Un higher high Ma non mi sembra Molto plausibile Al momento E allora ho detto Senti Io vendo Quello che mi rimane Qua E alla fine Più o meno qui Non ricordo esattamente Dove Sono uscito Con la restante parte Della mia posizione Su cava Un po' più in basso Del previsto Ma Comunque Sono Estremamente Soddisfatto Ecco Qualcuno mi ha detto Ma come mai Sei uscito Perché comunque Ha un'ottima coin È una Cioè da holdare È un progetto Nascente Non voglio dire Che è una brutta coin Che è un brutto progetto Però Io ho una mia visione Sulle altcoins Che è Di questo tipo Le altcoins Sono Difficili da apprezzare Cioè Il progetto può essere Il migliore in assoluto Ma chi è Che mi dice Che deve valere 20.000 satoshi Piuttosto che 40.000 Piuttosto che 10.000 Non lo so È questa la cosa Quindi Il prezzo è dato Dalla speculazione Delle altcoins Ed è questa La ragione per cui Io credo Ai grafici Anche se un progetto Mi sembra Estremamente promettente Faccio delle rarissime Eccezioni Laddove è possibile Fare appunto Il cosiddetto Value investing Ovvero Si può andare A vedere Quanto Cash flow Viene generato Da un'azienda Diciamo Una piattaforma Come ad esempio Gli exchange A volte anche Con le piattaforme DeFi È possibile Stimarlo Quanto meno Però Diventa veramente Difficile Considerando soprattutto Che il settore DeFi Attualmente È in una Forte bolla Ecco E quindi Questo è il motivo Che mi ha spinto Alla chiusura Su cava E inoltre Volevo togliere Un po' di esposizione Dalle altcoins Visto che il focus Al momento È su BTC Poi Abbiamo La mia posizione Su ethereum Che rimane Tale quale Anche se Devo ammettere Non mi piace molto Non mi piacciono molto Le ultime due candele Tuttavia Abbiamo comunque La rottura Di un high Importante Su ethereum bitcoin E attualmente Lo stiamo Un po' Retestando Forse Perché qua Abbiamo comunque Il top Eccolo Su cui abbiamo Cozzato oggi Vediamo un po' Come va Nei prossimi giorni Lo stop loss L'ho spostato E l'ho messo Qui sotto Prima era qui Adesso è qui Non è uno stop loss Ma è uno stop profit Perché il mio entry È in parte qua E in parte qua E quindi Sono soddisfatto Direi Di ethereum Qualcuno di voi Mi aveva chiesto Anche ethereum dollaro Il nostro aspirante Validatore Allora ethereum dollaro È bello È bello anche lei Allora aspetta Cerchiamo un grafico Con un po' Più di storico Tipo questo Allora Andiamo a vedere Che ci dice Ethereum dollaro Al momento Abbiamo Questo top Come principale Resistenza 335 Poi abbiamo Quest'altro top Come scorso Supporto Oserei dire Poi questo qui A 270 Come supporto Di lunga data E il resto È Basta Il resto Quello che Conosciamo Nel medio periodo Avevamo questo range Dal quale abbiamo Attinto più volte Guardate che bello Questo pool di liquidità Il range È stato rotto Ecco vedete In questo caso Non c'è stato Nessun tipo di retest Nessuna occasione Di entry Quindi diventa Veramente complicato Attualmente Su ethereum Abbiamo un entry area Volendo che A quella che va Tra 286 E 270 Questa zona E lo stop loss Lo si potrebbe mettere Per esempio Sotto i 250 Un po' un ragionamento Affino a quello Fatto su bitcoin Quindi invalidazione Assorbimento del breakout Dal range Che sarebbe Questo E entry Sulla appunto Sulla zona di supporto Più vicina Che potrebbe essere Appunto questa qua Niente Questo è ether BNB BNB Anche lei Insomma Mi sta facendo Un po' soffrire Perché Io ho fatto Il mio entry Su questa Area verde Insomma Ipotizzando Break Retest Il problema È che adesso L'ha persa Quindi qualcuno Mi fa Ma come mai Non l'hai chiusa Cioè questo Questo non potrebbe essere Un breakdown Retest Potrebbe Però io tengo Il mio stop loss Sotto i minimi Perché vista La turbolenza Di bitcoin Di questi giorni Che sta facendo Un po' sclerare Tutte quante le altcoins Io me ne sto Con la mia posizione E non la modifico Stick to the plan Insomma Lo stop loss L'ho messo lì Lo lascio lì Così Qualsiasi interferenza Turbolenza Varia Non mi Condiziona Più di tanto E poi Direi che passo La parola A voi Così mi chiedete Qualche altcoins Da vedere Ok Allora Ho impostato La tua stessa strategia Fatta con cava Sui miei land Ti ricordi Quali presi In ICO Incredibile game Per ora Sono soddisfatto E esco spostando Tutto su bitcoin Ethereum E direi che Non ti puoi Assolutamente Lamentare Hai fatto Un ottimo Un ottimo colpaccio E anche land Se non erro Ha mostrato Un qualcosa di simile Vediamo Eccolo Sì Eh sì Ha invertito La struttura Non è Ecco Non ha avuto La candela Di top Qua in alto Così palese Come cava Un altro Che ce l'ha avuta Palese Ha stato Bend Vedete Questa candela Qua Questa candela Qua È stata Lo stesso Messaggio Poi vedete C'è stato Addirittura Un higher high In chiusura Qualche tentativo Di attacco Però poi L'offerta Ha vinto Non c'è niente Da fare L'offerta Ha vinto E ci ha buttato Diretti Contro il primo Cluster intermedio Di supporto E anche qua È stata Una bella Mazzata Quindi Che dire Alla fine I grafici Raramente Mentono E lasciano Delle impronte Belle forti Bend L'abbiamo visto Guarda Se vuoi approfondire Un attimino Magari Abbiamo appunto Come supporto Questa zona Però ecco Io dico la verità In questo momento Visto che La struttura Comunque È Fortemente Ribassista Cioè abbiamo Un bell'impulsone Ribassista Prima di fare Un higher high Ce ne vuole Personalmente Non entrerei In quanto trader Attenzione In quanto investitore C'è il solito discorso Che non si guarda Più di tanto Il grafico Ma si tende a guardare Di più il valore Del progetto Che noi diamo Al progetto Poi Insomma Ve l'ho detto È difficile Apprezzare un altcoin Però Qualcuno ci prova Basta Direi che questo È quanto Cos'altro volevo dire Sì che La struttura Punta a quella Che Parla alla fine Se abbiamo una struttura Rialzista Ci sta comunque Voler aprire I trade long Speculativi Se invece la struttura Inizia ad invertire Le altcoins Adesso si trovano Tutto un po' In questa situazione Tant'è che La dominance Stessa Vedete Ha avuto Una botta Che le ha fatto Superare Tutte e due Le medie mobili Che sono i miei segnali Di esposizione Quindi adesso C'è un bel Attenzione Nell'esposizione Cioè E si tende ad evitare Di esporsi in altcoins Perché dopo una natta Così di solito Quanto meno C'è un follow up Di qualche tipo Cosa abbiamo visto Io non metto mai stop Su BTC Ma anche quello È un approccio Insomma Dipende tutto Da quello che si vuole fare L'importante è saperlo Litecoin Andiamolo a vedere Litecoin Di cui parlo sempre male E puntualmente Lui mi contraddice No allora scherzo Litecoin È agghiacciante È terrificante Ed è assolutamente Intoccabile Io ci starei Il più lontano possibile Scherzi a parte Cioè guardate Che razza di trend Che ha Cioè È un downtrend Esacerbato A dir poco Questo movimento Di certo Non è nulla Nei confronti Di tutto Il downtrend Che c'è stato Non Cioè Guardiamo il macro Piuttosto che il micro Basta scalare un po' Sul time frame Ed è tutto subito Più chiaro Insomma Che ci troviamo qui Quindi Non è Non è una gran coin Da allungare Poi Cosa ne pensi di Ampl Solo speculativo Buon investimento Guarda In questo momento È speculativo Perché C'è FOMO Perché Non è ben chiaro Nessuno Soprattutto Ha avuto una crescita Il market cap Che è Brutale Oserei dire Adesso non ricordo Neanche A che punto si trova Vediamo Su coin market cap Mi pareva che fosse arrivata In top 50 Addirittura Hanno Hanno cresciato Coin market cap Nei momenti di FOMO Lui cresce No Eccolo Vediamo Allora Dov'è 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 Eccolo Il 27esimo Dai Ma davvero No Assolutamente No Dai Ed è costantemente Sopra Il suo target price Tra l'altro No Non è giustificato Mi spiace Ma non è giustificato C'è troppa FOMO Io starei veramente attento Secondo te Quanti si faranno male Con la DeFi Guarda Secondo me Nascerà una nuova generazione Di backholders Vi ricordate il 2017 In cui tutte le Le ICO Sembravano bellissime Tutti ci si fiondavano dentro Bastava comprare Un altcoin E tre giorni dopo Avevi fatto per due Ok Dopo un mese Avevi fatto per cinque E poi com'è finita E' finita Che è stato assorbito Tutto quanto Io credo che la storia Si ripeterà Purtroppo Perché la DeFi È bella Però non bisogna esagerare Nel senso che Non bisogna Farsi prendere Dalla FOMO E adesso ci sono Tutti i punti Della checklist Della FOMO Ovvero I prezzi che salgono In maniera esponenziale E parabolica Senza una fine E senza una giustificazione Perché sono tutti Progetti nascenti E non è minimamente Giustificato Vederne il prezzo Salire in maniera Parabolica Come se fosse un progetto Che ha già preso piedi In tutto il mondo Qualcosa di simile E' tutta aspettativa Ok Tutta veramente Speculazione Seconda cosa Quanti tweet Quanti messaggi Quanti articoli Avete letto Che dicono Che siamo solo All'inizio Che la DeFi È il futuro Che si parlerà Solo di quello Sarà ciò che causa Il nuovo bull market Ecco Anche questo Dovrebbe ricordarvi qualcosa Insomma Non sarà così Ve lo dico già Magari ci saranno applicazioni Estremamente concrete Ma anche Ethereum È stato il futuro È il futuro E lo è tuttora Ma non vale più 1400 dollari Quindi è lo stesso Il discorso Cioè Bisogna capire Laddove Stiamo esagerando Con il pricing Di una coin Cioè Se una coin Ti fa per 5 Per 10 In maniera ingiustificata Se una stable coin Che è nata da due settimane È al 27esimo posto Nella coin market cap Vuol dire Che non è giustificata E quindi Non bisogna Farsi prendere Dalla fomo Del tipo Che non può fare Altro che salire Perché è il futuro Perché è qua Perché è là Perché quelle lì Sono quelle notizie Che lasciano veramente Il tempo che trovano Cioè Sono fatte proprio Per far abboccare Gli allocchi A farli comprare Così qualcuno Gli può vendere Quindi La mia idea è questa Purtroppo Molti lo fanno Perché Operano in maniera Disinformata Non informata E Acquistano Senza sapere bene Quello che stanno facendo Magari sull'onda Di una notizia Magari Sull'onda Dell'entusiasmo Entusiasti della DeFi Io sono entusiasta Della DeFi Cioè È rivoluzionaria È una bomba È pazzesco Però Da lì a dire Che non esisterà Altro al di fuori Della DeFi Anche le ICO Sono una cosa pazzesca Cioè Un crowdfunding Completamente decentralizzato È una bomba È fantastico È un concetto Che Ha introdotto I token E R-C20 Sono L'80% Del mondo crypto Che conosciamo Gli smart contract Tutte queste applicazioni Sono una bomba Però Anche lì C'è stato il solito discorso La bolla Che poi esplosa Perché Anche se una cosa È fantastica Non vuol dire Che il suo prezzo Deve continuare a salire Perché Dopo un po' Iniziano a fare I take profit Iniziano a fare A scendere un po' I prezzi E alla fine La bolla Si inverte E si ritorna Più o meno Al livello base Quindi La nuova generazione Di backholder Sarà quella Che adesso O nei giorni scorsi Ha comprato I token DeFi E finirà Magari tra un anno In cui i token DeFi Varranno L'80-90% In meno E cercherà Di shillarli Per farli risalire Per cercare Di uscire In break even Break even Se lo scorderà E quindi Di minimizzare La perdita Purtroppo È un ciclo Che si ripete Anche questo Quanto ha senso Ragionare Sui grafici Bitcoin ed Ether In Euro È meglio Ragionare In Ether BTC O Ether USD Guarda Ti dico la verità Ether Lo giustifico Anche in USD Oltre che in BTC Perché C'è molto Flusso di capitale Comunque Da Fiat a Ether Come su Bitcoin Ovviamente Sono un po' Le due più capitalizzate Ci sono copie Di mercato Addirittura Alt Ether Come Alt BTC E quindi Giustifico un po' Di più Il grafico Ether Dollar Tuttavia Io in Euro Vabbè In Euro Secondo me È secondario Perché è un mercato Poco liquido E quindi il grafico È meno regolare Io tendo a non guardarlo Piuttosto se voglio Comprare in Euro Lo guardo in dollari E poi faccio la conversione Vado a vedere Supporti Zone di liquidità Eccetera Poi faccio la conversione E basta Tutto lì E basta Questo è quanto Quindi E Rond Cosa ne pensi Ha ritracciato abbastanza Andiamo a vedere E Rond Allora Il settimanale Ma c'è Ma adesso Vogliamo Vogliamo parlarne Che Cioè Boh Boh Che cos'è sta cosa Che poi C'è sicuramente Uno spettacolo Ecco E Rond C'è da dire Che non ha Infranto la sua struttura Vedete Ancora Molto molto Bullish Per quanto Questa candela Abbia una shadow Estremamente lunga E quindi un po' Spaventa Non lo so Cioè Io davvero Non credo Che entrerei In questo momento Cioè È veramente Parabolica Iperestesa Non mi sembra Il caso Ecco Io Due cose Non mi piacciono Le coin Iperestese E le coin Che hanno una struttura Esageratamente Ribassista Quale Le evito Di solito Scelta personale Allora Mi son perso Via Voglio andare A leggere Ancora qualche Domandina Perché ce l'hai Tanto con Ethereum Ce l'ho Con Ethereum Io sono un fanboy Di Ethereum Io ho Il No adesso Avevo il 15% Del portafoglio Di crypto In Ethereum A inizio mese E adesso È aumentato parecchio Quindi dovrò Ribilanciarlo Ma io Cioè Chi mi conosce Lo sa Che sono un fanboy Di Ethereum Non pensi che Ethereum Possa riprendere quota Ma anche lì Purtroppo è stato vittima Di una bolla Quindi non bisogna Secondo me Considerare I suoi prezzi Che ha avuto in passato Nel periodo di top Perché sono davvero falsati Adesso aspetta Andiamo a recuperare Uno storico Un po' più lungo Sono falsati Cioè Non vuole dire Perché tutto può succedere Però bisogna Guardare il presente Bisogna guardare il presente E il passato più recente Per andare a vedere I supporti Le resistenze Grafici Tutto quanto Ma non fare Quell'analisi Che si chiama top down Ovvero partire Dai massimi passati Dai top E dire Ci ritornerà Non ci ritornerà Perché è un Un ragionamento Un po' fallace Secondo me Qua ricordiamoci Che questo è stato Il periodo Della bolla di Ethereum Quindi io Dubito fortemente Che ci ritornerà Dei prezzi del genere Se volete La mia particolare opinione Bitcoin potrebbe Ritornare Ai suoi top Perché è un andamento Diverso Ma questa è più Una configurazione Da bolla Secondo me Nel senso più stretto Del termine Qualcuno può anche dire Che anche Bitcoin È stata una bolla Però secondo me Non c'è veramente Veramente paragone Detto questo Ethereum è La blockchain Con la B maiuscola Per me Non fraintendetemi Io piccole posizioni In alcune alt Come algo BNB eccetera Non superano il 2% Conviene tenerle Per un eventuale futuro Oppure conviene chiudere E Sedificare posizioni migliori Ma guarda Dipende Dipende Perché Insomma Dal motivo Per cui le hai aperte Se le hai aperte Come speculazione Magari Considera Dove posizionare Lo stop loss Avrai il tuo stop loss E tutto quanto Se hai un investimento Ci sarà un motivo Ok Quindi Ti disincentiverei A chiedere agli altri Se ti conviene Chiudere o no Le posizioni Perché Dovrebbe venire da te Ok Interrogati sul perché L'hai aperta È importantissimo Quello Cioè Perché ho aperto una posizione Ho fatto bene Ho fatto male L'ho aperta di fretta Sei sbagliato L'hai aperta Perché non sapevi Molto bene Cosa fare Allora Direi Di Evitare Di chiuderla direttamente A sto punto E ragionarne una migliore Ciao Ti seguo da molto Ma è la prima volta Che scrivo Mi fa piacere Benvenuto nella chat Cosa ne pensi di ring Sono entrato a 0012 E ora ho fatto più di un 100% Però Avrei venduto Ma visto che durante il pump De BTC Non si è scomposto minimamente Ring Non la conosco Sai Che è Ring Dollaro Ring X È questa Non credo Oddio Mi sto perdendo qualcosa Che cos'è Questo Che cosa sarebbe Oddio Qualcuno lo sa Vice in Holder Ci sei Conosci questa coin Substrate Me l'avevi scillato tu È una cosa Su Polkadot Anche Non lo so Dovrei Dovrei forse approfondirla Darwinia Polkadot Si Ah interessante E adesso ci sarà La FOMO di Polkadot Secondo me Mamma mia Se ne vedremo Delle belle Interessante Interessante Guarda Mi hai dato uno spunto Non la conosco Ti dico la verità Ma Ring Darwinian Network Token Eccolo qua Esatto E Legolas E Rondaragon Ring E Legolas I 5 Samurai No Interessante Interessante Perché Appunto L'ecosistema Polkadot Secondo me Avrà una Dei bei riflettori Sopra Quindi Può valer la pena Approfondire Ti dico Non Non c'è molta analisi Da fare Un token nuovo Se vuoi fare una piccola parte Di take profit Magari potrebbe valerne la pena Ma Se vuoi fare un investimento Barra scommessa Sul Sul medio Lungo termine Tieni Non so Ma Mi hai preso La scuola Mi hai preso La sprovvista Dunque Dunque PNT Su Quattro ore Addirittura PNT USD Andiamola a vedere Dai Time frame Quattro ore Allora Abbiamo Andiamo a vedere Intanto Per la struttura Il giornaliero Che effettivamente Vabbè Una bella struttura Rialzista Tutto quanto Con Un top Locale Qua Che lo possiamo andare a segnare qui Poi Quattro ore Quattro ore Abbiamo Un clasterino Che è stato Toccato Proprio Da questo Flashdump Che c'è stato Qua Sfiorato Proprio Con la shadow È stato anche preso E poi Ha recuperato Insomma Potrebbe essere interessante Vedere se va in price discovery Se rompe Questo Questo top Altrimenti Non lo so Il ritracciamento C'è stato Potrebbe magari Formare un range In questa zona qua Quindi se dovesse Ritracciare di nuovo Qui Ad esempio Potrebbe essere un entry area Con stop loss Qua sotto Con target primo Questo E poi eventualmente Trend follower Se supera qua Mi piace Mi piace È ben messo Devo dire Mi guardi Plu Ma sì Guardiamo Plu 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 It BTC Che cos'è Questo Cos'è Plutus Pluton Lì Com'è che si chiamava Allora Fermo restando Che mi sembra Un mercato Un po' poco Liquido Non è neanche Non è neanche messo Malissimo Se non fosse Che ha fatto Questa Questa caduta Rovinosa Qua Non lo so Che cos'è Poi Con tutti Sti gap Boh Beh io ti dico La verità Lo evitare Non conosco Non so cosa sia È andato a ritoccare Questo supportino Qua Non so cosa sia Sto Plutus Però il grafico Non mi convince Granché Cioè perché è Veramente strano È illiquido E fa movimenti Un po' a strappo La struttura Non è neanche Bruttissima Però Troppi strappi Troppe anomalie Non mi piace Per me è no Allora Ragazzi Che dire Vabbè Alex Intanto salutiamo Mamma Caterina Che ho visto Prima che dicevi Che sta diventando Matta con i tuoi pipozzi Su Polkadot Spiegaglielo Ah il token Della card Plutus Boh allora Mai convinto A lasciarlo perdere Lì dov'è Bene Stia pur lì E Mi raccomando Spiegale bene Polkadot Che è importante Diglielo Che è interoperabilità Sharding Tutti questi termini qui Fatti figo con quelli E basta Detto questo Qualcuno mi ha chiesto A che punto siamo Con token set Ci siamo quasi Siamo veramente vicini Io ho compilato Il form Di creazione del set Sto aspettando Che loro mi dicano Il set è pronto Dopodiché Comincerò a prendere adesioni Perché inizialmente Facciamo una closed beta Quindi Chi vorrà partecipare Fare parte di questo set Quindi in sostanza In maniera decentralizzata L'acquisto di questi token Che fanno parte di questo set Significa avere una quota In una sorta di fondo Gestito da una mia strategia Che è una variante Della Ema Slope Per chi ha seguito i miei video Sul training automatico Su un doppio time frame Quindi con due segnali Di ingresso E con alcune caratteristiche particolari Long only Quindi a basso rischio È un approccio Che ho chiamato Alpha Che poi vorrò fare Anche altre lettere greche A rischio crescente Questa è Quella a rischio più basso Un po' alla portata di tutti Per chi vuole fare Smart holding Diciamo così Vi spiegherò Come funziona Quindi come Entrare Che per chi vuole Acquistare appunto Una parte di questo set I fondi rimangono vostri Perché il token È un ERC20 Quindi lo tenete dove volete E potete in qualsiasi momento Rivenderlo Per il controvalore attuale Di quel set lì Quindi Se ad esempio Con la strategia Si fa un più 10% Voi avete la quota del set L'avete acquistata a X E la rivendete a X più 10% E quindi riprendete i vostri Ether I vostri token In qualsiasi momento Zero vincoli Zero menate E il tutto in maniera Decentralizzata Quindi non dovete Neanche lasciare i fondi Su una piattaforma Sono sempre vostri Arriverà prestissimo Quindi state sul pezzo Mi raccomando Che è una delle cose Che mi gasa di più In assoluto Ragazzi Vi faccio Un carissimo saluto Vi ringrazio di nuovo Per avermi seguito Mi raccomando Domani alle 21 Con Pietro Michelangeli Vi voglio tutti qua A fargli domande Visto che lui È un value investor Subissiamolo di domande Su cosa ne pensa Di Bitcoin Dei fondamentali Cosa gli dà valore Gliele farò Già io queste domande Ma vi voglio anche voi Alle 21 Qua su Twitch E poi ripost Su YouTube Il giorno dopo Perché se no Lo riposto a mezzanotte Lo riposterò il giorno dopo Così ve lo potrete godere Con calma Con tutti i minutaggi Di nuovo Grazie per avermi seguito Occhi puntati su Bitcoin Per chi Insomma è interessato Alla posizione long speculativa C'è l'occasione Se no Vediamo come si comporterà Se confermerà Se farà il mega BART Eccetera 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 E basta Questo è quanto E vi voglio Sul pezzo Domani alle 21 Di nuovo Un saluto E a domani Grazie a tutti